E ora, il plausibile impossibile, come appare nella scena incompleta che era stata realizzata per Biancaneve e i Sette Nani. Quando l'animazione era ancora allo stadio preliminare dei Disegna Matita, scoprimo che il film sarebbe stato troppo lungo. Si doveva sacrificare qualcosa e toccò a questo brano. Vedete, sebbene la scena ci piacesse, essa non era essenziale alla trama del racconto. Quando vedrete la sequenza, noterete che non vi apparirà uguale a quelle che ricorderete di aver visto nel film. Si tratta, infatti, di una animazione dei disegni originali fatti a matita. Una volta fotografati contro gli schizzi dei fondi scenici, la scena vi apparirà così. Però, prima di vedere la sequenza non finita, diamo un'occhiata alle scene che la precedono. Queste, naturalmente, appartengono alla versione completa e definitiva del film. in cui tutti i disegni sono stati riportati a colori sopra la celluloide e fotografati su dei fondi scenici completi. Stato a preliminare di animazione. with a phone, with a music in your soul. You can hear things up with a drum, drum, drum of the music in your soul. With a gun, with a grin, get away through on your skin. You can make things up with a drum, drum, drum of the music in your soul. When that spoon's gotta keep on nippin'. When that spoon's gotta keep on nippin'. When that spoon's gotta keep on nippin'. When the foam is dry and your face is rippin'. You can hear things up on the floor of a footbark. You can hear it, ha, ha! You can hear it, ha, ha! To the first and to the second and to the third half focus. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'avete imparato a mangiare la minestra in quel modo? Oh, credo che sia un dono naturale. Sì, possono farlo tutti. Con un po' di eserzitti. Ma no, non avete capito. È così che i gentiluomini mangiano la minestra? I gentiluomini? Sì, ecco, guardate. Cucchiaio in mano, pulso piegato, scende pian piano e risale da un lato. Cucchiaio in mano, pulso piegato, scende pian piano e risale da un lato. Bene, è perfetto. E' perfetto. E' perfetto. Che gli prende a cucciolo? Ha ingoiato il cucchiaio. Il cucchiaio? E' perfetto. Ecco, l'ho preso. Avete lì la bocca, lo prenderò io. Di... Eccolo, eccolo, eccolo l'ho preso. No, no, non ci riuscirete mai. Portatelo a testa in giù, squatetelo. Squatetelo forte. Fermi, fermi, ora ci penso io. Piegatelo, ecco così. Fermi, pronti, tutti pronti. Sì, arrivo. Allora! Grazie a tutti